Domenica appuntamento con il convegno, la riforma costituzionale e il senato delle regioni, importante appuntamento anche alla presenza del ministro Angelino Alfano. Cosa mettere in evidenza sul sì alla riforma costituzionale? Votare no significherebbe riportarci a forse fra vent'anni a trovare una sintesi di questo tipo. Quindi noi siamo fortemente per il sì perché pensiamo che forse sì la riforma, naturalmente essendo oggetto di una mediazione può essere migliorabile, ma la Costituzione attuale, seppur bellissima, è vecchia. Domenica ore 11 presso l'hotel Sporting, la sala Piano Terra, è un convegno che riguarda la riforma costituzionale e in maniera particolare il senato delle regioni e quindi le competenze che le regioni avranno. Bisogna fare una valutazione sull'opportunità, prima di tutto di andare a votare, di fare una scelta di cambiamento e credo che sia importante ascoltare la giornata. Il sì è capire veramente che oggi, parlando di politica, parlando proprio della riforma costituzionale, mi rendo conto che pochissimi conoscono veramente quello che andranno a votare il 4 dicembre, quindi questi mesi devono servire proprio per far capire quanto è importante riformare l'Italia piuttosto che tornare indietro.